Io sono molto contento, è bello condividere con Bologna la mia musica, il mio viaggio nel mondo, chiamiamolo a carriera, il mio viaggio nella musica è cominciato a Bologna, quindi è un riconoscimento che mi piace, è un riconoscimento che mi piace, è un riconoscimento che mi piace. Ogni volta che dico sono di Bologna, la gente sorride, quindi Bologna è amata nel mondo e conosciuta.